Sicuramente è un evento che noi abbiamo aspettato a poter ripetere visto gli eventi degli ultimi anni. È una cosa molto sentita, è una manifestazione che ci unisce con il piacere di sentirci tutti partecipi di vivere questa realtà che pur essendo ormai di 2000 anni fa in realtà ogni anno rivive nelle nostre case e poterlo fare tutti insieme, poterlo fare nel nostro centro storico, poterlo fare fra le mura delle nostre case antiche acquista un fascino e un sentimento particolare. È chiaro che per vivere questa emozione dobbiamo avere nel cuore la fede che ci unisce e che ci fa godere momenti così dolci e così importanti, quindi che tutti possano recepire questo messaggio e portarlo poi nelle loro case e viverlo tutto l'anno, non solo nel momento natalizio. Il presepe è stato attrezzato con varie isole dove si è voluta rappresentare quella che è la vita più comune, modesta chiaramente e comunque quelle che sono le abitudini del nostro paese, le abitudini della nostra popolazione che sono sempre splendide, che sono sempre da ricordare perché ognuna di loro ha un fascino che non può essere dimenticato. Quella famosa tradizione che dobbiamo portare avanti a ogni costo per identificarci nella nostra realtà e quindi abbiamo voluto dare un'impronta di questo genere e la vorremmo ripetere ogni anno sempre nello stesso modo con qualche piccola variante.